Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video aggiornamento calcio mercato del gobo toscano allora 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 si parla di chi quest'oggi di Rabiot, di Rabiot circolano voci abbiamo letto anche nella mia live del pomeriggio con i miei colleghi Dr. Juve, Drugo, Sam, Federico, l'Australiano abbiamo letto degli articoli, poi vi dirò quella che è la mia tesi e che ormai dico e sostengo da tanto, poi vedremo se avrò ragione o meno ma intanto vi dico quello di ogni giornale tre testate Rabiot rinnova, tre testate Rabiot va via e le tre testate di Rabiot va via mettono Manchester United, Chelsea, Paris Saint Germain, Barcellona, chi più ne ha più ne metta e che vuol dire questo non sanno manco loro che cazzo scrivere e che cazzo dirvi però ovviamente devono acchiappare il pubblico dando un nome poi uno dei tanti ci indovinerà per forza almeno è un film per i poggi bonzi che nessuno l'avrebbe dato nelle quote allora qualcuno di tutti questi ci avrà indovinato io vi dico il ragionamento che ho sempre fatto io e le persone cosa mi hanno sempre detto a me a livello di informazioni quelle persone di cui mi fido e vi dico sempre, cito sempre nei miei video e nelle mie live a me mi è sempre stato detto che Rabiot non rinnoverà con la Juventus e vi ho sempre spiegato il perché se vado andate a rivedere nelle live vi ho sempre detto il perché il perché è uno poi faremo un discorso generale sul Rabiot e sul giocatore che è e su tanti tifosi juventini che si accontentano degli spiccioli vabbè, mediocrità, lasciamo perdere allora Rabiot non rinnoverà per il semplice motivo che la Juventus non gli ha mai proposto per quello che ne so io, mai proposto un'opzione di rinnovo il che vuol dire che la Juventus neanche per i 7 milioni attuali lo vorrebbe il caso in cui Rabiot dovesse rimanere sarà uno solo un contratto al ribasso una negoziazione al ribasso cioè sarà Rabiot a chiedere della Juventus e non la Juventus a chiedere di Rabiot sarà Rabiot in caso di mancate offerte estere a chiedere di restare alla Juventus per quello che gli possono dare perché se no è un giocatore senza squadra e si può accasare ai club arabi non lo so faccia come vuole non so se no dove può andare uno che non viene cercato da nessuno si va a proporre come si andò a proporre Ronaldo con Mendes fino ad andare in Arabia Saudita detto questo a me risulta di interessamento ormai storico da parte del Manchester United adesso si parla anche di un'offerta con un bonus per l'ingaggio per una commissione alla madre e uno stipendio di 9 milioni l'anno per Rabiot ok gli stessi che vogliono Rabiot che vogliono non che lo vogliono perché lo vogliono perché gli piace Rabiot ma che dicono i Rabiot rimaneranno alla Juventus parlano più o meno della stessa cifra e qui ci siamo poi chi avrà ragione si vedrà col tempo dovrebbe essere presentato Rabiot presentato ufficializzato mercoledì stranamente mercoledì stesso giorno in cui dovrebbe essere presentato giunto nella Juventus mi suona un po' strano però anche lì ripeto ognuno ha la propria idea cioè le proprie fonti le proprie informazioni e i propri ragionamenti quello però che mi piacerebbe dire a voi tifosi della Juventus è abbiamo perso Del Piero abbiamo perso Ronaldo abbiamo perso Zidane abbiamo perso Conte abbiamo perso Cannavaro Thuram Buffon Platini andiamo ancora più indietro abbiamo perso tantissimi di giocatori campioni fuoriclasse alieni perdiamo Rabiot e scoppia il putiferio sui social noo Rabiot Rabiot tre anni una stagione buona buona basta non una stagione super vi ricordo che il primo anno di Antonio Conte alla Juventus il signor Arturo Vidal 15 gol pagato 10 milioni e mezzo dal Bayer Leverkusen mi pare da una squadra tedesca mi pare da Leverkusen non voglio di una stronzata scusate però mi ricordo di 15 gol 15 gol per un centrocampista lì alla prima stagione non era nessuno noi abbiamo preso Rabiot perché pensavamo fosse un campione l'anno il terzo anno dopo due anni di merda ti fa 11 gol è diventato il fenomeno della Juventus su cui la Juventus dovrebbe ripartire il prossimo anno scusatemi scusatemi ma mi fate un po' ridere so forse avete la memoria corta è che la Juventus e gli Juventini non si accontentano certo per un rabbio della situazione detto questo ripeto secondo me il rabbio è già fuori dal progetto non rinnoverà stiamo a vedere cosa succederà mi raccomando seguiteci nelle live di Calcio Mercato tutti i giorni 14.30 e non perdetevi questi video flash ciao fino alla fine grazie